Abbiamo fatto bene a uscire dall'aula, io al signor Romani non rispondo, visto e considerato che ancora una volta, grazie ai suoi voti, ha salvato la maggioranza. Il problema è un problema di coerenza, non si può andare davanti alle telecamere a dire faccio opposizione e poi quando si ha l'opportunità si salva il signor Renzi. O si è maggioranza o si è opposizione. Romani oggi ha dimostrato ancora una volta che Forza Italia fa parte della maggioranza.